Indubbiamente è un'azione meritoria quella che il sindaco aveva proposto, però non era fattibile e non è fattibile. Continua a tenere banco a Udine il tema legato alla partita tra Italia ed Israele valida per la Nations League in programma al prossimo 14 ottobre proprio al Blue Energy Stadium. Il caso era scoppiato negli scorsi mesi quando il comune di Udine aveva negato il patrocinio alla partita scatenando di fatto una marea di polemiche dopo aver spiegato le motivazioni ovviamente legate alla questione israeliano-palestinese il sindaco aveva lanciato l'idea di organizzare una raccolta fondi come sorta di punto d'incontro nel dialogo avviato tra FIGICI e Comune con la somma che sarebbe stata poi devoluta alle vittime della guerra che è tuttora in corso in Medio Oriente. Idea apprezzabile però bocciata dal presidente della FIGICI regionale Ermes Canciani da poco rieletto che ci ha spiegato le motivazioni di questa decisione. Le partite della nazionale hanno una prassi che ormai è consolidata e quindi non si poteva pensare di eliminare questa una raccolta fondi o direttamente sui biglietti della gara o indirettamente con qualche altra iniziativa. Mi dispiace tantissimo, mi auguro che per la data di svolgimento della gara ci sia un cessato il fuoco. Stop alle polemiche, è questo quindi il messaggio che lancia Canciani e ora la palla passa al sindaco De Toni. Probabilmente è stata gestita male questa. Se noi avessimo saputo, se la federazione avessi saputo già dall'inizio che il Comune di Udine non dava il patrocino logicamente ci saremmo mossi e la federazione stessa si sarebbe mossa in un'altra maniera. La federazione di treno gioco calcio ha stipulato un accordo con la regione Friore in Italia Giulia per fare arrivare la maglia azzurra in tantissime occasioni. Ieri sera c'è stato un bellissimo antipasto a Trieste con le finali del torneo Under 17 fra Italia e Spagna. Questo chiaramente è un rapporto che è bivalente, cioè la promozione del territorio legata allo sport. Ora, purtroppo i tempi non sono stati consomi a questa aspettativa e quindi è partito il Comune di Udine e la federazione si è trovata spiazzata di fronte a questo, soprattutto perché la regione Friore in Italia Giulia sia come consiglio regionale, sia come giunta regionale aveva già dato il patrocino.